Qualche giorno fa abbiamo avuto in 24 ore 4 fiducia, nonostante c'è una maggioranza ampia del 90% e tra l'altro abbiamo Mario Draghi, quello che Francesco Cossiga definì un villeaffarista e obbiego opportunista. Lui nel 2008, il 17 di marzo, firmò la delibera per far acquistare Banca Anton Veneta al Monte dei Paschi di Siena a un valore finale di 17 miliardi con ricorso a strumenti ibridi, indebitamenti. Da lì, da quella delibera, la lenta agonia del Monte dei Paschi di Siena. Banca pubblica e perché fece quella delibera? Perché? Perché obbiego opportunista, perché non voleva disturbare il groviglio armonioso di Siena, Stefano Bisi, il capo della massoneria, per non pregiudicare quella che era la sua ambizione, andare a fare il presidente dell'ABC. Adesso la sua ambizione è quella di andare a fare il presidente della Repubblica. Questo è Mario Draghi.